Carlotta Benusilio, 37 anni al momento della morte, venne prima uccisa per strangolamento, e in seguito impiccata per simulare un suicidio Si è riaperto il caso della stilista Lombarda, il cui corpo venne ritrovato impiccato ad un albero di via Napoli a Milano Per la morte di Carlotta Benusilio è indagato il magentino Marco Venturi, 41, ex fidanzato della ragazza Negli ultimi giorni sono state svolte due nuove perizie sul caso, una del PM e l'altra voluta dalla famiglia di Carlotta I risultati definiscono un panorama abbastanza differente da quello delineato dalle precedenti indagini Carlotta Benusilio, un caso lungo due anni.Carlotta Benusilio è stata trovata senza vita la mattina del 31 maggio 2016 in un parco di Milano Da subito gli inquirenti incentrarono le indagini su Marco Venturi, con cui Carlotta aveva una relazione a dir poco problematica Un rapporto basato, si dice, su violenze e percosse da parte dell'uomo Pare che la giovane fosse solita fotografare tutti le contusioni e le ferite sul volto ed altre parti del corpo subite dopo le presunte aggressioni da parte del compagno Nonostante tutto, l'amore di Carlotta Benusilio nei confronti del Venturi, era probabilmente troppo forte Dopo uno stop sentimentale dovuto ad un litigio, la ragazza tornava sempre tra le braccia di Marco Tuttavia, questi ha sempre rigettato qualsiasi accusa di violenza nei confronti della sua ex Gli sviluppi sul caso.La prima inchiesta si è conclusa con la richiesta di archiviazione, a cui si sono contrapposti con decisione i familiari di Carlotta Benusilio Grazie alla loro perseveranza, hanno infine ottenuto la riapertura del caso Le nuove indagini, affidate al PM Antonio Cristillo, segnalano importanti novità sull'omicidio della 37M La procura ha fatto riesumare il corpo di Carlotta Benusilio disponendo una perizia su di esso Stessa cosa hanno fatto i consulenti della famiglia della stilista I risultati confermerebbero la tesi del consulente della procura, ovvero, Carlotta sarebbe stata prima uccisa tramite strangolamento, probabilmente con l'ausilio della sciarpa che indossava, inseguito il corpo senza vita sarebbe stato appeso ad un albero simulando un atto di suicidio Secondo i consulenti della famiglia di Carlotta Benusilio, un individuo avrebbe pedinato la ragazza la sera della sua morte Una volta giunta presso il parco, la donna sarebbe stata prima assalita ed inseguito strangolata attingendo il corpo di Carlotta con un braccio, oppure con un oggetto serrato quale la sciarpa della ragazza Svegli Andra